Accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale che vedeva il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto, sottoposto ad indagini per il reato di scambio di voto. L'indagine fu avviata da una denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Porto Empedocle dall'attuale consigliere provinciale Orazio Guarraggi, due giorni dopo i risultati del ballottaggio che proclamarono Firetto, primo cittadino di Porto Empedocle. Alla denuncia erano state allegate le dichiarazioni di tre donne, una delle quale asseriva che Firetto, in cambio del voto, aveva promesso ad una signora il pagamento di una bolletta dell'energia elettrica in cambio del voto per Firetto. Dopo la denuncia, la Procura della Repubblica, il Gip Gimamiliani, che ha coordinato l'indagine, ha interrogato una quindicina di persone presenti ad una riunione in cui le dichiarazioni allegate alla denuncia erano state raccolte. Anche Firetto, attraverso il suo avvocato, aveva intrapeso una serie di indagini difensive per dimostrare l'impontatezza delle accuse mosse da Guarraggi. I risultati delle indagini difensive effettuate dal difensore dell'indagato hanno intotto la Procura della Repubblica ad avanzare richiesta di archiviazione del procedimento, cosa che è avvenuta ieri. Sempre il Tribunale di Agrigento ha assolto tre impiegate dello stesso Tribunale, Giussi Tarantino, Anna Argento e Maria Carmela Graceffa, finite nei guai nel 2005 insieme ad una trentina di persone, tra cui l'ex presidente dell'Aclagas Calcio Giuseppe Deni, con l'accusa di far parte di un'associazione per delinquere con l'aggravante di mafia finalizzate a reati di corruzione, truffo e falso. Le tre impiegate del Tribunale di Via Mazzini sono le uniche imputate per cui è stata riconosciuta la piena innocenza, mentre tutti gli altri imputati, una trentina in tutto, hanno beneficiato della prescrizione.